Bellissima, questo è fatto, spazio bellissimo. Si potrebbe fare uno spazio per bambini. Certo, che mi sembra una posta molto carina e bellissima. È importante guardare questo, tutto insieme a questo, insieme a Rasin, uguale fratello, uguale sorella. Perché è importante fare lo spazio per bambini? Allora, uno, perché lo sport è gestibile a tutti ed è un diritto per tutti. Due, fare lo sport antirazzista, palestra, tutto quanto, contro l'azzista. Tre, per divertirsi tutti quanti insieme con franzi popolari. Quattro, la scuola, la scuola è l'italiano, la roba bellissima, che spazio. La scuola è spagnola, l'inglese, l'italiano, e non mi ricordo cosa, è arabo, è arabo, è arabo, è arabo, è una roba, è tanta roba. È uno spazio dove discutere, è uno spazio dove inventare. Direi che di questi tempi, un po', questi spazi sono diventati una necessità. È uno spazio, sì, di solidarietà, ma è uno spazio politico. È uno spazio da usare in comune per il comune. Se si vuole, non si muove. curriculum. È uno spazio parche aren't alcun Richie dell'Itálico di Milano. Inあの fine il comune è un kinds'u più Evetolo che ti ha venuto di questo evento. È una scubic-lla, scubic-la. Scubic-lla, 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 scubic-lla wwwx tingoli.cubic- widgets.... Ha così, la scubic-lla, scubic-lla, che ci paremo fare. Grazie a tutti.